Buona giornata. Voglio tornare sulla recente legge 126 del 13 ottobre che ha convertito il decreto legge di agosto e che prevede molte disposizioni in materia di rapporto di lavoro. In modo particolare intendo oggi concentrarmi su una disposizione che è stata introdotta proprio in occasione della conversione in legge. Sto parlando dell'articolo 21 bis del testo legislativo. Ebbene consente a tutti i lavoratori dipendenti di poter chiedere di svolgere il lavoro agile nel periodo in cui i propri figli, il proprio figlio o figli, siano in quarantena per motivi di esigenze di natura sanitaria. Sappiamo cos'è il lavoro agile. Cioè il lavoro agile è la possibilità da parte del lavoratore di collegarsi da remoto con un server aziendale e poter svolgere la propria attività lavorativa con collegamento tramite computer e quindi svolgendo normalmente la propria attività senza doversi fisicamente recare presso la sede dell'azienda. In questo caso laddove un genitore abbia un figlio che è stato collocato in quarantena perché è entrato in contatto con altri bambini o con persone che siano risultate positive nell'ambito scolastico, nell'ambito delle attività ricreative di natura sportiva o comunque nell'ambito di attività collegate anche, la legge riprende anche attività di scuola di musica, di attività legate a scuole di lingue o quant'altro, il genitore può chiedere di rimanere a casa e svolgere da casa il lavoro tramite collegamento da remoto. Attenzione, è un diritto del lavoratore, quindi il lavoratore può chiedere e pretendere il datore di lavoro, non può rifiutarsi laddove è possibile il collegamento da remoto di consentire il collegamento appunto, lo svolgimento di lavoro con modalità agile. Ma cosa succede se, come in molte situazioni, il lavoro agile non è possibile perché l'attività lavorativa non consente la possibilità di svolgere un'attività con collegamento da remoto. Il lavoratore ha comunque il diritto di assentarsi e potere quindi stare a casa ad assistere il proprio figlio e avrà diritto ad una indennità che verrà erogata da parte dell'Inps pare al 50% della propria retribuzione. attenzione, vale la pena di ricordare comunque che in questi periodi, queste settimane che eventualmente uno sta a casa, il lavoratore otterrà da parte dell'Inps il riconoscimento della contribuzione previdenziale piena. Altri due elementi da sottolineare. Innanzitutto, il diritto da parte dei genitori sussiste laddove i figli o il figlio siano inferiori ai 14 anni. E infine, questo diritto sussiste se la quarantena è stata disposta con provvedimenti da parte dell'Unità Sanitaria. Non può essere chiesta e pretesa questa modalità di lavoro agile laddove l'assenza del genitore sia stata una scelta volontaria della famiglia per motivi precauzionali senza un intervento esplicito da parte dell'autorità sanitaria locale. Torneremo ancora su questo complesso articolato di legge perché prevede molti aspetti legati al rapporto del lavoro e per ora vi auguro buona serata. Grazie.